Nella nostra dinamica provincia di Varese c'è sempre tanta voglia di fare. Nonostante le difficoltà del momento, il tessuto produttivo, gli enti locali e il no profit continuano a guardare avanti con la proverbiale concretezza della nostra terra, mettendo in campo nuove idee e nuovi progetti. Come rappresentante del nostro territorio in Europa e come membro della Commissione Industria al Parlamento Europeo ho voluto creare uno strumento che potesse aiutare comuni, imprese, cittadini e associazioni a reperire attraverso i fondi messi a disposizione dall'Unione Europea le risorse economiche necessarie per realizzare i propri progetti di sviluppo. È nato così con il contributo del gruppo Identità e Democrazia il portale Bandi Europei, un motore di ricerca raggiungibile dal mio sito www.isabellatovaglieri.it che consente di navigare in modo semplice ed efficace tra quasi 10.000 bandi, diretti ed indiretti, costantemente aggiornati e di essere avvisati ogni qual volta venga pubblicato un bando che risponda ai criteri inseriti in fase di registrazione. Le opportunità che possono aiutare ed accrescere la propria attività sono molteplici. Per le imprese ad esempio a gennaio partiranno i bandi per l'internazionalizzazione e l'innovazione che prevedono erogazioni a fondo perduto e finanziamenti agevolati. È già operativo invece il bando investimenti sostenibili che può riguardare anche interventi di efficientamento energetico e che prevede un contributo a fondo perduto fino a circa 1 milione di euro. Oggi più che mai saper utilizzare bene i fondi europei è fondamentale anche perché i finanziamenti comunitari sono soldi che non ci vengono regalati dall'Europa ma che sono già stati pagati dai cittadini. L'Italia infatti è il terzo contributore netto dell'Unione. Ciò significa che versa nel bilancio comunitario più di ciò che riceve. Ho deciso quindi di fare la mia parte in questa fase difficile nella quale è urgente e strategico rimettere in moto le imprese, aprire i cantieri, creare nuovi posti di lavoro. Per tutte le iniziative che possono valorizzare e far crescere la nostra provincia vi aspetto dunque sul portale Bandi Europei sul sito www.isabellatovaglieri.it